Ciao a tutti, nell'esperimento di oggi creeremo lo slime. Questi sono i materiali che ci servono. Una confezione di colla vinilica da 100 grammi, che ho già versato all'interno del bicchiere di plastica, bicarbonato di sodio, colorante alimentare, scegliete voi il vostro colore preferito, e acqua borica che ho versato qui nel bicchiere. Prendiamo la colla, aggiungiamo poco più di mezzo cucchiaio di bicarbonato di sodio e mescoliamo, agitate, fino ad avere un composto uniforme. A questo punto aggiungere il colorante alimentare, nelle quantità fate voi in base all'intensità che volete dare al vostro slime, e mescolate. Anche in questo caso agitate finché tutto il composto non abbia preso il colore che poi avete aggiunto. ora aggiungete l'acqua borica. Mi raccomando, aggiungetene poco alla volta per riuscire a raggiungere la consistenza che preferite. a questo punto l'acqua borica va a reagire con il bicarbonato di sodio e con la colla. Avete una reazione che va a prendere il calore dall'esterno per poter riuscire e quindi il composto dovete sentire che diventa un po' più freddo. Mentre fate l'esperimento, magari annotate tutti i cambiamenti che andate a rividenziare, vedete anche quanto tempo impiega ad avvenire la reazione. Aggiungetene, se ti avete bisogno, ancora un po', e continuate a mescolare. Man mano controllate la consistenza del vostro slime, continuate a mescolare e poi potete anche continuare a modellarlo direttamente con le vostre mani. E questo sarà il vostro slime. Potete divertirvi a farlo di colori diversi, di consistenze diverse, più o meno, e potete giocarci. Ciao a tutti! Grazie a tutti!